buongiorno amici e amiche di nova news 24 beatrice luzzi tira fuori un'altra notizia un altro carico da 90 non soltanto sergio anche beatrice ha preso le distanze da vittorio ormai elite tra i due g e fini stefano ha rivelato che durante la gita organizzata al grande fratello sarebbe stata attaccata dal branco proprio beatrice pare che marco maddaloni abbia accusato beatrice di aver condizionato e deviato per mesi percorso di vittorio e che il modello sia rimasto in silenzio non smentendo la versione del judoka questa per la luce è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso chissà come reagirà beatrice quando scoprirà che vittorio ha fatto delle confessioni molto private su lei e greta io l'ho difeso sempre anche quanto non c'entravo nulla e il contrario non è mai accaduto ha detto beatrice ma la cosa più orribile di tutte quelle che mi ha fatto vittorio sai in diretta in puntata può giustificarsi dicendo che non ha il coraggio però l'altro giorno che siamo usciti ed eravamo sulle scale del ristorante sono stata attaccata dal branco e a un certo punto maddaloni ha detto una cosa assurda si ha detto che io per tre mesi e mezzo ho condizionato il percorso di vittorio no anzi ha detto che l'ho deviato in realtà tutti sanno che io l'ho sempre aiutato a venire fuori e davanti a maddaloni che dice una cosa così grave nemmeno in quella situazione parli nemmeno lì ha avuto il coraggio di dire nulla non mi hai mai manipolato semmai è il contrario mi è stata sempre vicina invece lui non ha detto nulla amici di nova news 24 insomma il grande fratello organizza questa gita che dovrebbe un po calmare i geffini e rilassarli invece ha creato ancora più polemiche cosa sarà successo davvero probabilmente domani in puntata uscirà fuori il tutto intanto diteci voi cosa ne pensate se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su nova news 24 ciao 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 ciao